Salve a tutti, da Arpapi e da Totino. Totino lo sai che tanta gente se ne va in vacanza e abbandona i pelosetti. Io non l'abbandono un'altra volta, perché già l'ho detto che non l'abbandono, ma non l'abbandono, anzi lo sapete che ce faccio io con Totino, guarda come sta, ma lui sta guardando qualcosa che per lui è di fondamentale importanza. C'è qualcuno che sta anche rischiando, guarda un pochettino come si sa, rischia il nostro bimbo. Allora, noi non l'abbandoniamo a Totino, perché noi non lo lasciamo, voi siete pazzi in mezzo a una strada che poi diventa vecchio, brutto, poverino. Totino, capito? Io non ti abbandono assolutamente, anzi lo sai che ce faccio con Totino, ci gioco. Vai Totino, via la pallina, dammi la pallina Totino, dammi qua. Ecco quello che si fa con i pelosetti, ci si gioca, ma che abbandonate, cazzo abbandonate voi siete matti. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS